Ad Arezzo la chiusura della 23esima edizione del Festival Internazionale Italian Brass Week che quest'anno si è snodato in lungo la penisola in tre diverse città. Il titolo della giornata Arezzo Brass City, una vera e propria maratona musicale che ha toccato i più suggestivi luoghi della città toscana dalla Fondazione Guido d'Arezzo alla Cattedrale, dalla Fondazione Ivan Bruschi alla Casa Museo Vasari. Tra gli appuntamenti quello con l'esecuzione in prima mondiale della composizione del Maestro De Felice commissionata dal Festival che ha unito voce recitante, assombra di Ottoni e le campane di Arezzo. Sono strafelice che sia andato così bene perché era una prima mondiale, non avevo neanche un'idea come potesse venire ma è stato un grande successo. E poi questi giovani meravigliosi abbiamo chiuso questa performance a seguito di una settimana di Masterclass concerti a Firenze e a Roma e sono strafelice perché ci siamo divertiti tanto. Quindi un grazie a loro e un grazie a tutti questi meravigliosi che hanno veramente animato l'Italian Brass Week. Italian Brass Week!